Amici di Marcosbox, benvenuti in questa piccola guida sul funzionamento di DW Service. Che cos'è? DW Service Remote Control è un servizio che ci permette di accedere a sistemi remoti utilizzando soltanto un browser web. Consente di controllare i più svariati dispositivi perché è compatibile con Windows, Mac OS, Linux, ma è possibile controllare i dispositivi anche come Raspberry Pi, Oneboard, Pine64 e chi più ne ha più ne metta. Il progetto è totalmente open source, il tool è totalmente open source, la sicurezza è garantita dal protocollo HTTPS, quindi quando noi andiamo a effettuare una connessione abbiamo una sicurezza che i nostri dati non vengano intercettati. Il front-end, che è il componente che gestisce tutta quanta l'interfaccia, comunica con la parte back-end per rinunciare utenti e agenti sui vari nodi della rete su quale si basa tutta questa infrastruttura. Il progetto, come vi dicevo, è gratuito, lo penso, ma è possibile comunque effettuare, contribuire, effettuando una sottoscrizione su diversi piani che consentono di avere una maggiore larghezza della banda. Per gli utilizzi, quelli che andremo a fare noi, che sono utilizzi basilari, il piano gratuito, quello senza sottoscrizione, basta e avanza, ma se avete esigenze particolari, lavorative, vi invito a attivare uno dei piani che trovate descritti sulla pagina di WS, citando a precisare che non è un posto sponsorizzato, quindi se volete decidere, se decidete di attivare un piano a sottoscrizione, non ci guadagno un centesimo, ma contribuirete al progetto e quindi va sempre bene contribuire. Ma è possibile contribuire anche attivando i nodi, praticamente è un nodo, è uno dei componenti, è il componente fondamentale di WService che consente la connessione tra l'utente e l'agente. In Italia, come potete vedere, c'è un nodo principale, poi ci sono un altro nodo in Germania, un altro in Francia, l'altro in Polonia e poi abbiamo altri nodi disponibili in America, o meglio, negli America perché è presente anche uno in Sud America e in Brasile. Andatevi poi a leggere come funziona tutto il meccanismo e come funziona l'infrastruttura, per i dettagli più tecnici. Dicevamo, il funzionamento. Come funziona questo DW Service Remote Control? La prima cosa da fare, ovviamente, è quella di registrarci al servizio sul sito internet di DW Service, scegliere i dati d'accesso, impostare la nostra password, mettete una bella robusta così state sicuri di aggiungere un ulteriore livello di sicurezza, e poi andare a scaricare sulle singole macchine che noi vogliamo controllare il DW Agent, che è quel programmino che ci consente appunto di interfacciare il computer che vogliamo controllare e di gestificarlo da browser. Su MacOS, Windows, l'installazione è molto semplice, cliccateci da sopra e vi viene fatta. Su Linux c'è da effettuare un passaggio in più, scaricate l'SH di DW Agent, gli date i permessi di esecuzione come programma, lo potete fare sia da terminale, dando sudo chmod.px seguito dal nome del programmino, ovviamente posizionatevi all'interno della caratterica, o cliccando su permessi e spuntando consentire l'esecuzione del file come programma, quindi possiamo farlo per via grafico o da terminale. Una volta fatto, diamo la conferma ed eseguiamo il tutto con sudo. Nel mio caso è già installato, quindi se vado a dare installa, mi viene fuori il messaggio di DW Agent è già installato, quindi l'agente si aggiunga automaticamente all'ultima versione ogni volta che viene lanciato, che viene eseguito, quindi non dovremo fare altro che adesso utilizzare il servizio. È possibile anche eseguire soltanto l'agente in modo tale da evitare l'installazione, ma se avete intenzione di controllare da remoto una serie di computer in tempo indefinito, installatelo e buonanotte, diciamo così. Il DW Agent, come potete vedere, è installato. Se noi andiamo su Avvio ed Applicazioni su Punto, è possibile visualizzare tutte le applicazioni che si avviano in automatico. Qui, fra l'altro, è possibile spuntarlo e rimuoverlo dalle applicazioni che si avviano in automatico, qualora non vogliamo farla avviare in automatico ogni volta sul nostro computer. Bene, andiamo a vedere come funziona il servizio. Questa è la schermata principale. Nella schermata principale abbiamo uno stato che ci illustra tutti quanti i computer che noi andiamo a gestire, quindi nel mio caso abbiamo il computer portatile HP, il fisso, la partizione con Windows e la partizione con Linux, dal quale vi sto parlando. Qui è possibile poi eventualmente filtrare quelli che noi abbiamo disabilitato, quelli che non sono disponibili, qualora avessimo un centinaio di computer da controllare. È possibile poi comunque aggiungerli di nuovi a distanza, di iscrizioni, inserire in gruppi. È possibile gestirli da remoto modificandoli, disabilitandoli, riavviandoli, ristallandoli e quant'altro. Andiamo a vedere come funziona. Andiamo adesso a controllare il nostro portatile con Windows. Ecco qua. Una volta cliccato avremo una serie di opzioni. File e cartelle. Si tratta dell'applicazione che ci consente di gestire file e cartelle da remoto. Quindi in questo caso, come potete vedere, è il mio computer con Windows, con tutti quanti i cartelli che ne sono cultura. Qui è possibile avere accesso a una serie di funzionalità, come potete vedere. Questo pulsante serve per andare al cartello superiore, aggiornare, nuova cartella. Quindi è possibile creare una nuova cartella. All'interno del computer che noi stiamo andando a controllare. Qui è possibile eliminarla. Poi abbiamo i soliti strumenti taglia, copia, incolla. Abbiamo la possibilità di caricare file o di scaricare file da e ver, quindi sia in un verso che nell'altro. Tasto destro, possibilità di fare nuova cartella, taglia, copia, incolla. Quindi gli stessi comandi di sopra, ma è possibile gestire anche tramite mouse. In modo tale da utilizzare come meglio ci aggrada. Qui è possibile avere un editor di testo. Ma è possibile poi visualizzare i log di sistema. Quindi queste sono una serie delle applicazioni che noi abbiamo. Qui è possibile poi, tornando qui, cliccando su risorse, visualizzare le risorse di sistema. Quindi possiamo avere accesso al consumo di risorse del computer che noi stiamo controllando. Quindi qui ci viene mostrato il processore, qui ci viene mostrato il contenuto della memoria RAM. Qui ci viene mostrata la gestione dei dischi, quindi con lo spazio libero e lo spazio libero utilizzato. Cliccando su processi, abbiamo tutti quanti i processi che sono attualmente in esecuzione, che possiamo anche stoppare. Che ne so, andiamo a stoppare qualcosa, qualcosa, qualcosa. Ecco per esempio quello di origin, è possibile arrestare il processo a distanza. Semplicissimo. Cliccando su servizi, abbiamo tutti quanti i servizi, che possiamo anche filtrare per avviati o arrestati, quindi possiamo mettere in ordine. Tutti quanti i servizi presenti sul computer che noi stiamo andando a controllare. Ed è possibile avviare se questi sono stoppati o stoppati, se questi sono in esecuzione. Quindi un controllo totale sulle risorse del computer. Cliccando sul pulsantino, infine alla fine, è possibile avere il controllo remoto e quindi visualizzare il nostro desktop a distanza. Come potete vedere siamo all'interno del portatile che stiamo controllando in questo momento. C'è un leggero input lag perché, perché appunto l'infrastruttura non è immediata per ovvie ragioni, ma è comunque utilizzabile ed è paragonabile a soluzioni proprietarie come TeamViewer o AnyDesk. Quindi è comunque tutto usabile, c'è questo leggero input lag, ma come vi ripeto, se avete utilizzato in precedenza soluzioni con TeamViewer e AnyDesk, vi sarete accorti che anche lì c'è questo problema. È possibile ovviare in parte questi problemi, appunto, effettuando una sottoscrizione per dei piani che ci consigliano di avere più banda. Piani di cui vi ho parlato prima. Andiamo a vedere il nostro bel desktop e qui abbiamo accesso al nostro desktop. Quindi possiamo fare cartelle, possiamo gestire, avviare i programmi e fare tutto quello che abbiamo bisogno di fare per il nostro lavoro a distanza. In alto è possibile attivare le varie funzionalità. Qui abbiamo, per impostarlo a schermo intero, qui abbiamo copia testo da remoto, incolla testo da remoto. E' possibile dare dei comandi, vi faccio vedere qui che forse è meglio che si vede più grande. Il control hash, il control alt cance, cliccando su questo qui è possibile effettuare il control alt cance. Quindi inviare sequenze di tasti in generale. Qui è possibile impostare la qualità della visualizzazione, qui è possibile gestire quale schermo vogliamo controllare. E qui è possibile selezionare un'opzione che ci consente di ingrandire il nostro desktop. Ora vogliamo effettuare un piccolo zoom, ci mettiamo al 150% e come potete vedere si è ingrandito il tutto. Di default ovviamente c'è adatta allo schermo. Quando abbiamo finito la nostra bella sessione ci basterà cliccare qui e tornare alla schermata riepilogativa con tutti quanti i computer che noi possiamo controllare a distanza. Come potete vedere ho anche quello di Ubuntu che è questo qui che sto utilizzando in questo momento. E' nel computer con sistemi operativi Linux, oltre a file e cartelle, editori test, log, risorse e schermo, abbiamo anche il nostro terminale, quindi è possibile avere una risorsa di terminale da rimoto. Ecco, come avete avuto modo di vedere il tool è molto semplice, le funzionalità sono davvero interessanti. Io lo utilizzerò come soluzione principale su tutti i computer che gestisco, quindi me lo andrò a installare anche sul computer da lavoro, nello studio e sui computer che gestisco da remoto, di parenti, amici e quant'altro, in modo tale da avere un rapido accesso ai loro computer in maniera più rapida e semplice. Bene, con questo ho concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, speriamo che questa situazione dovuta al coronavirus duri il meno possibile e che possiamo tornare al più presto a fare le nostre vite, quindi lavorare anche da ufficio, quindi tornare a fare la vita di tutti i giorni. Un abbraccio a tutti quanti, ci vediamo con il prossimo video, oppure con la prossima puntata del podcast o ci riascoltiamo sulle pagine di Marcosbox, leggete gli articoli, commentate, condividete, insomma, sapete che cosa fare. Ciao ciao!